Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, Francesco mi dice che sta qui io non lo vedo però che si prova a pescare la sua bella seppiolina ma dai eh ma là non ci devi lanciare, con che ci hai lanciato? con la... buonasera la ci puoi andare o solo con... solo con... con needle cioè insomma roba che ti lavora in superficie oppure aspetta l'alta marea una grande alta marea ma io là lo sai quando le roba ci ho lasciato? eh un patrimonio un patrimonio là ci sta eh ma ci sta uno che fa il sub che mi ha detto lo sai quante cazzo ne raccolto gli artificiali? eh uno me la... c'ho pure il filmato che provammo a recuperarlo mi ero perso un... un jig avevo pagato 18 euro e se per favore mi ti immergi si lui stava a pescare siccome ci eravamo già conosciuti lui mi ha detto guarda ti seguo sul canale ma pure io ce l'avevo c'era un canale di... di pesca sub bellissimo io gli ho detto ma perché non... eh no non lo faccio più la gente mi rompe coglioni e quindi mi disse guarda se a me puoi fare la cortesia mi ti immergi per favore proviamo a recuperarlo però niente non l'ho trovato perché l'acqua era torbida io vengo da Bellante dove ho comprato questi artificiali che lo sai che è che non... pure Peppe mi ha detto tu quando passa là chiamami sempre però là non c'è la linea quale comprate? questo eh è sempre un needle tipo un needle io sono andato delle cose, sono delle express però con questo lo dire l'altra volta oggi mi deve arrivare però solo che non ho andato da nessuno quindi devo arrivare di fare l'aspirizio no da Temo scusa un po' di cosette da Temo non ci compro io non ce l'ho mai comprata guarda è velocissimo, è affidabilissimo come ho questi popper qua uno guarda la giacca la maglia peppa carina questa ah l'hai presa? che? con la maglia? si ho pagato pochissimo a Bugazia le scritte vabbè non so perché l'ho preso però mi sembrava una comoda mi sembrava una comoda mi sembrava una comoda questo è carino eh tipo quello quanto l'hai pagato questo? quattro 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 il Guatino ora non lo apro che mi dicono che porta sfiga mi ha detto uno del ieri quando ho fatto la live non so se l'hai vista ho fatto una live di un'ora ma ci stavano una trentina di persone che mi incitavano uno mi ha detto chiudi il suo quadrino che porta sfiga adesso proviamo queste nuove esche prese fresche fresche eh ho speso 45 euro 45 euri cioè ma puoi anche disdire però no volendo perché io l'ho fatta e se cazzate tipo abbonamenti non voluti poi ho scritto sembra la apple me l'ha tolti ma riaccreditati i soldi questo non cade più dove cazzo è andata a finire non si vedono cacciate niente io stamattina ho fatto l'alba solito cappotto non si vedono cacciate niente non si vedono cacciate niente eh forse ancora si sono abbassate le temperature non si vedono cacciate niente abbiamo aiutato a riguatinare la mormora ma speriamo che dobbiamo guadinare la mormora ma speriamo che dobbiamo guadinar pure qualcosa no 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 Comunque parte qui eh, parte bene Comunque parte qui, 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 parte bene Comunque parte